Ragazzi, direi che si passa a fare un po' di ASMR Prima di iniziare Volevo dirvi che faremo 10 minuti di ASMR Detto ciò, io ho la lista delle cose che volevo fare oggi in ASMR Il primo suono È il mio telefono Mi piace questo suono ragazzi Ora ne ho un altro bellissimo Che quello del mio bicchiere È stata un'esperienza unica Passiamo ai pugni duri Sentite qua Passiamo adesso alla mia barba Adesso un po' di aria gratis Tutto per voi ragazzi Pronto? Stai spaccando gli cucchi, le casse e anche mio padre stai spaccando Ok, ciao Direi di continuare Ho questo preservativo Torniamo sull'ora ragazzi Ic ministers Ic chiusi Turned out Turned out Turned out Turned out Turned out Turned out Inca!